Non facilissimo questo game Soprattutto per un Ubsol Prego fai che vadano al conteso Porco due ma ho inshottato Madonna Vabbè vabbè comunque I nostri cosini l'abbiamo messo I nostri stack l'abbiamo preso Va anche bene Lì prende la killa cinderis in teoria Oppure io La prendo io Io qua Mi butto su di lui Intanto lo so dove sta E' che non lo so Aia Madonna mia ma crittato Tre autoattacchi su tre Vabbè comunque Ma sai che Gringe è già tornato in giungla Olè Arrivederci No hanno zompato E vabbè allora Che sta facendo A zoomerilli E occhio occhio Che sono in tre loro Oh pazzo crazy Eccola Eh mo Pacca no Yes No No non l'ho preso Vabbè Vabbè Preso adesso Avrei potuto mettere più stack Però Vabbè Vabbè Vado via Ciao Vediamo un po' Se riusciamo a prendere qualche kill Giusto paio Un paio di kill prese E si va Quattro per a casa Com'era io Non so Non seguo il calcio Contro chi giocava Parca zozza Qua Qua M'ha shottato Contro il carpi Contro gaming gladiators Allora Cosa potrebbe andare storto Tutto Finale Coppa Italia Juve Inter 2-4 E vabbè E vabbè Cose che succedono Io vorrei busciare top Magari Potrebbe non essere Una cattiva idea C'è green ninja A parte che quelli si tippano lì Quindi Io qua li metto No Non l'ho preso Mannaggia Sono scarso Se no mi sarei curato E se l'avrei probabilmente ucciso Intanto 3.30 Voglio Ne ulti Ne rifaccio Due volte Ah due volte No però Hai risposto al messaggio Che messaggio Ah la cosa Sì 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 Che mi faceva concorrenza Chiore Non so neanche Che partite ci stanno Guarda Fare il 14 Non mi farebbe schifo Eh ma Così Vabbè lui va via Eh cazzo Ho fatto Una strunz 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 Sì perché ero in range di surf Non mi devo avvicinare Però Dove cavolo andavo Allora I finali le guardano tutti Boh Cioè io seguo la nazionale Ma Nelle finali Mi frega proprio niente Però il calcio Mi piace Però Non seguo nessuna squadra Arcazzuzza Arcazzuzza Io 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 non dico niente Io non dico niente Ti commenta da sola la giocata Absol Non è in meta No Absol è scarso Io direi che è scarso No Vabbè Comunque Absol non è in meta ragazzi Ricordatevi questa cosa Madonna Ho giottato Direi che la partita è bella Che in cassaforte Il signor Silveani qui Non fa consegnare Un replay Annaggia Annaggia Altro che replay Quasi serve Il VAR No Azione illegale Così per curiosità Avrò fatto 15.000 anni Solo nell'ultimo fight 95.000 GGG Crash Don't worry Don't worry Eh ragazzi L'ho detto che non largo più Ok To Allah Non An advice Il VAR Accorda Non Ai Grazie.